e ciao a tutti amici io sono franco versa in questo tutorial per da vinci resolve andremo a vedere come ascoltare l'audio in fusion e quindi avere la possibilità di sincronizzare la nostra animazione quello che andiamo a costruire in fusion con la traccia audio perché forse sembra quasi semplice la cosa ma vedremo che in alcuni casi potremo non ascoltare l'audio quindi non essere in grado di sincronizzarlo qui incomincia a fare caldo quindi creiamo dei tutorial veloci veloci per rinfrescarci entriamo subito in da vinci resolve ed eccoci qua in da vinci resolve vi vado a fare vedere questa cosa qui come vedete abbiamo due clip che ho importato che contengono dell'audio proviamo questa line portiamo in timeline vedete che ovviamente ha la sua traccia già inserita prendiamone solo un pezzettino tanto per fare una prova e ci portiamo in fusion cosa succede succede che avremo un nostro media in e qui vedete abbiamo questa icona di un alto parlante vuol dire che l'audio è attivo tant'è che sempre da qui con tasto destro possiamo mutare quest'audio perché non ci disturbi qui quindi se andiamo avanti indietro questo da una certa versione di da vinci resolve dalla 17 se non sbaglio se andiamo ascoltare vedete che possiamo ascoltare l'audio e quindi questo ci permette se ad esempio ho questa clip già fatta ad esempio voglio far entrare qualcosa quando il logo si trova qua quindi mettiamo ad esempio una scritta adesso faccio un esempio banale vado qui scrivo logo ecco la cosa più sciocca potessi fare lo metto rosso e vedete eccolo qua da qua vado a inserire un keyframe e che ne so ad esempio da qua lo faccio apparire quindi abbiamo che questo logo apparirà proprio in quel punto e come avete visto ho sincronizzato l'uscita qui poi sapete che da keyframe potrò andare sulla parte logo vedete vado a ingrandire e quindi avrò questi keyframe per ad esempio anticipare un pochino quando andrà incominciare a uscire tra l'altro sempre da questa parte di keyframe è molto interessante perché se vado sul media vedrò proprio la parte audio quindi questo mi consentirà di sincronizzarmi con dei picchi eccetera quindi una vera e propria sincronizzazione come la facciamo sulla pagina edit e allora dite il tutorial cos'è cosa vuoi insegnarci è questa cosa qui perché guardate cosa succede ovviamente questo succede con qualsiasi clip che esportiamo quindi non c'entra cosa c'è nella clip ad esempio qua io ho esportato una grafica di fusion con una musica e se lo vado a mettere vedete che ho sempre la presenza della clip e l'audio e quindi se vado in fusion ho la stessa situazione di prima che qui vedrò l'audio attenzione se non lo vedete le volte è perché dovete scorrere in play e quindi poi vedete che andrà ad apparire quindi fate questa sempre operazione di mettere in play che caricherà la forma d'onda ok e vedete che la situazione è sempre quella di prima dove abbiamo un media bene ora invece vogliamo creare la nostra animazione quindi prendiamo la nostra musica la tagliamo come ci interessa farò ecco questo pezzettino tanto di prova e devo creare una new fusion composition quindi vado qui new fusion composition e poi la porterò in timeline ecco qua allunghiamoci un po' la musica io sono pronto cosa faccio sottolineo tutto vado in fusion però purtroppo ahimè io qui non ho un media e quindi se io metto in play in realtà io non mi sono portato dietro nessuna forma d'onda è inutile che io metta background e crei la mia animazione eccetera perché il mio audio non ci sarà è questo che oggi vi voglio insegnare come dobbiamo procedere in questo caso allora facciamo così creiamo proprio la nostra fusion e creiamo e inseriamo la nostra forma d'onda ma dobbiamo legarli in qualche maniera quindi sottolineiamo tutto tasto destro del mouse e facciamo new compound clip in questa maniera andremo a creare un'unica clip entriamo in fusion l'unica cosa che ora avremo un media in che sarà nero andiamo a ascoltare l'audio come vedete c'è la presenza di audio e se andiamo sui keyframe ovviamente in media in avremo la nostra forma d'onda ora facciamo questa cosa sganciamo qui questa la teniamo magari anche da parte per avere comunque la forma d'onda e andiamo a fare la nostra normale programmazione perché ad esempio noi il fondo lo vogliamo trasparente e non nero quindi mettiamo il background inseriamo la trasparenza e qui andremo a crearci la nostra animazione adesso io farò non so ad esempio una pallina metto un background lo faccio rosso lo vado a collegare a un transform per muoverlo ecco qua vado a collegare agli altri nodi e qui metto una maschera per crearmi la pallina ecco una cosa veloce tanto come esempio e io questa la voglio sincronizzare come movimento sull'audio quindi ora potrò ascoltare e ad esempio a questo picco qui che avete sentito voglio fare che la pallina vada su quindi arrivo qua così vado sul transform per esempio clicco qui clicchiamo anche il size così la ingrandiamo e qui subito dopo il picco ma possiamo come detto anche visualizzare la forma d'onda eccolo qua qui poi sapete che possiamo spostarci anche con le freccettine e andiamo a creare l'animazione ad esempio la voglio portare su e la vado a ingrandire questa operazione qui andiamo a vedere cosa abbiamo combinato quindi chiudo e avete visto che la pallina va a tempo di musica e così ovviamente questo era solo un esempio per dire qualsiasi nodo andrete a inserire testo altre grafiche che recreate eccetera potranno essere tutte a tempo di musica e appunto sincronizzate anche qui in maniera più opportuna vado a prendere il mio transform vado ad allargare questa zona e come vedete ho il perfetto riferimento della forma d'onda sopra se io volevo proprio che partisse il colpo qui magari lo sposto qui e qui la partenza l'anticipo un pochino ecco qua poi potrò intervenire anche con le spill line e tutto in maniera normale come procedo normalmente ecco le spill line vado a ammorbidire le curve eccetera eccetera e ovviamente una volta tornati nella edit avrò anche la possibilità che questo sarà trasparente quindi se vado a porre un video sotto ecco qua questa ha mantenuto le caratteristiche di una fusion composition normale eccola la avete visto che il puntino ha fatto ciò che avevamo programmato quindi come avete visto un tutorial veloce perché poteva succedere che inserivamo i nostri effetti perché ovviamente con questo sistema possiamo portarci una o anche più tracce audio quindi potremo inserire degli effetti speciali anche nell'audio io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per restare sempre avvisati quando posto un nuovo video e ci rivediamo alla prossima ciao a tutti